Quasi 28.800 le assunzioni di docenti di cui oltre 13.000 di sostegno, 4.600 le immissioni in ruolo del personale ATA sono i numeri comunicati dal Ministero dell'Istruzione per l'anno scolastico 2014-2015. Questo il quadro in Italia. In Molise gli insegnanti che diventeranno di ruolo sono 178, 27 invece gli ATA in tutto 205. Numeri comunque inferiori alle aspettative fanno sapere dalla CGL Federazione Lavoratori della Conoscenza. In tutta Italia, spiega il sindacato, considerato tutto anche a livello legislativo tra cui la norma su quota 96, si sarebbero recuperati 25.000 posti e nella nostra regione sarebbero state 300 le assunzioni. Ora, secondo la CGL è necessario con la massima urgenza attivare tutte le procedure necessarie per garantire che si completino le operazioni per il puntuale avvio dell'anno scolastico, cioè utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, pubblicazioni delle graduatorie entro il primo settembre. L'ufficio scolastico regionale ha comunicato che procederà alle proposte di contratto a tempo indeterminato il 29-30 agosto. I docenti in ruolo, compresi quelli di sostegno, saranno dunque, nelle scuole di ogni ordine e grado, 134 in provincia di Campobasso, 43 in quella di Isernia. A questi da aggiungere un posto per il personale educativo. Per gli ATA, che comprendono assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici e cuochi, le immissioni in ruolo saranno 19 in provincia di Campobasso e 8 in quella di Isernia. La CGL comunque continua a sostenere che la scuola ha bisogno di risorse certe, organico stabile e adeguato per garantire formazione di qualità agli studenti. Il governo conclude il sindacato con le recenti dichiarazioni su reclutamento, abolizione delle graduatorie. Orario dei docenti lascia trapelare che pensa solo a ridurre la spesa per il diritto all'istruzione e non ad investire sul futuro.